Ciao! Oggi torniamo in Spagna per vedere la seconda maglia dell'Atletico Madrid per la stagione 22-23 NIN edizione FUN, quella dedicata ai tifosi Per la prima volta dalla stagione 2019-2020 le maglie da calcio da trasferta Nike Atletico Madrid è prevalentemente nera I colori principali della maglia da trasferta sono Deep Royal Blue, Copa Deep Royal Blue è un blu saturo, mentre Copa è un azzurro La maglia è basata sul modello 2022-23 Vapor di Nike però in questo caso la vediamo abbinata ad un colletto Apollo Il colletto è blu reale, con le finiture torchesi e nere, così come i polsini delle maniche Questo prodotto contiene il 100% di materiali riciclati ed è solo una delle soluzioni di Nike contro l'inquinamento causato dai rifiuti plastici La maglia è bella, elegante, a mio avviso questa portata con un paio di jeans farà sempre una bellissima figura Nella mia personalissima classifica questa prende 4 stelle È veramente di una qualità ottima e con dei tempi di spedizione incredibili Questa è arrivata in 13 giorni Vi ricordo che in descrizione qua sotto trovate tutti i riferimenti per ordinare la maglia E anche un link per un coupon da 5$ che potete spendere sul sito per comprare quello che volete Il costo lo vedete qui sopra, peraltro veramente bassissimo se si pensa che include anche le spese di spedizione E come vi dicevo la spedizione è velocissima Ora vi lascio alla parte in cui vedrete la vestibilità, quindi continuate a guardare il video Nel frattempo spero che possiate regalarci un like e iscrivervi al canale Per oggi è tutto, ciao! Io sono alto 1,75 m e peso 70 kg circa Quella che vedete è una taglia media della versione Fan